Vanno avanti tra riposo e appuntamenti le vacanze ad Alghero di Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha fatto visita al Municipio e ha lasciato il consueto messaggio sul libero d'onore degli ospiti della città. Erano presenti il Sindaco Mario Conoci e il Presidente del Consiglio Comunale Lelle Salvatore, ma Sergio Mattarella ha voluto incontrare anche il Prefetto Maria Luisa D'Alessandro, il Rettore dell'Università degli Studi di Sassa di Gavino Maiotti e l'amministratore della provincia Pietrino Fois. Ha voluto ringraziare per la bellissima accoglienza che gli ha riservato la città e ancora una volta ha espresso grande apprezzamento per la nostra cultura e per le bellezze storiche e naturali del nostro territorio, ha detto il primo cittadino Mario Conoci. L'incontro è stato anche l'occasione per esporgli i nostri problemi e le nostre aspettative che il Presidente ha garantito di voler portare all'attenzione del Governo nazionale. Mario Conoci ha consegnato al Presidente della Repubblica una pergamena storica della città insieme ad altri omaggi rappresentativi del territorio e della storia locale. Tra i siti visitati da Sergio Mattarella non poteva mancare la Grotta di Nettuno. Ho avuto il piacere di poterlo accompagnare, ha aggiunto Mario Conoci, insieme ai suoi familiari all'interno della grotta, dalla quale è rimasto colpito e della quale ha voluto conoscere gli straordinari e unici aspetti naturalistici. La scelta di Alghero ha concluso Mario Conoci. Da parte del Presidente della Repubblica, per la sua pausa estiva si conferma un grande riconoscimento ed una grande opportunità per valorizzare la nostra città, le nostre eccezionali bellezze naturali.